Il Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero della Salute, ha effettuato controlli a livello nazionale presso le menze all'interno delle strutture ospedaliere e sanitarie per verificare le condizioni igieniche e strutturali, nonché l'attuazione delle procedure di sicurezza alimentare e la corrispondenza ai vincoli contrattuali delle ditte assegnatarie. I controlli hanno interessato 992 punti di cottura e preparazione pasti ubicate all'interno d'altrettante strutture sanitarie, sia pubbliche che private. 340 di queste hanno evidenziato irregolarità con l'accertamento di 431 infrazioni penali e amministrative per complessivi 230 mila euro di sanzioni pecuniarie contestate a causa di violazioni nella gestione degli alimenti, nella mancata rispondenza in qualità e quantità e requisiti prestabiliti dai capitolati d'appalto e dell'uso di ambienti privi di adeguata pulizia e funzionalità. Tra queste quattro sono relative alla presenza di batteri coliformi nell'acqua utilizzata per la preparazione di pasti, individuate dal NAS di Palermo presso un'azienda di catering di aggrigento per la quale è stata disposta la sospensione dell'attività e la sanificazione delle cisterne utilizzate per lo stoccaggio dell'acqua. Un altro caso di non conformità è stato accertato dal NAS di Parma presso l'area cucina ad una clinica nella quale un tagliere per la lavorazione delle carni è risultato contaminato da una carica batterica superiore ai limiti di legge.